ciao ragazzi e ciao ragazzi sono simone e questo non guarda manco vado a fare la intro oggi perché è successa una cosa un po' un po' scioccante diciamo vedrete fra un po' vedrete le clip perché io e simone che adesso andiamo a casa siamo riusciti a diciamo catturare le clip di questa cosa che è successa cioè che in poche parole c'era una persona dentro casa e che poi è tipo partito da una specie di inseguimento e quindi niente questo vi lascio il video e guardatelo fino alla fine che è un po' a Corri, corri, corri Raga abbiamo fatto parte in attiva la registrazione No, mi ho lasciato pure il cancello aperto Malù No, Malù Rai scendono pure Malù, vabbè dopo la... Raga ci sta questo col fulgone Ci sta uno dentro casa nostra Cioè dentro casa lì Ecco, ma... Il cane donnavo Eh, ma... Donnano Non è, non è, non è, non è 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 Non è, non è, non è, non è Corri, 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 che se ne va Dove stava, dove stava, te andavo faccio pure Stavo, no, sì Ma quello c'è stava, rapinao Ma che cos'è No, non è andato Simo Ma c'è più molto Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Ma se lo stava perso Ma... Io ho ripreso tutto Hai ripreso? Hai ripreso? Sì, ho ripreso da farlo Siamo partiti Ma sta, sta... Oh, oh, piano, piano Oh, Dio Ma siamo... Non ho capito Piano, piano E' un foglio Oh, Malù Eccola, Malù Malù, Malù Tenta, tenta, tenta Malù Malù Vieni, Malù Chiamala, chiamala Malù Vieni Sì Aspettate un attimo Prego Prego Non fa capire che è successo? Ah, è successo il panico Siamo stati inseguiti Questa è la lettera che ci siamo ritrovati su... Non so, stava sul... Come si chiama? Sul panico Sul panico C'è stato uno con un furgone che tipo... Ha preso, l'ha portato No, abbiamo un simbito visto che sgommava e poi c'è andato per capire la macchietta Vabbè, avresti la lettera, per favore Ottimo Riga, questo ha cagato il cazzo Questa favore Non c'è scritto Ma in realtà vi voglio bene, mi sto solo divertendo un po' E ricordate, non tutti coloro che sono stati nominati sono realmente del mio interesse PS, auguri di Tarot e Simone, Mr.Kill Riga, questo è un cazzo No, che cazzo fai? Ma che stai sto... Fermati un attimo Fermo Basta Oh, mi serviva la lettera, adesso come lo facciamo? Avete rotto tutti quanti il cazzo? Adesso mi fa il piacere, chiami la polizia Perché... Oh, ma che fai? Ed è niente pure qui a casa, ok? Ehi, fai quale decimale che hai fatto da qui Dio, ma che c'è... Ecco il cazzo C'erano in opere Avete rotto il cazzo, tutte e due? Ma vai, vai, vai Tutto il cazzo, tutte e due Oh, hai rotto le palle Quando lo dicevo io, ti chiamate le palle E poi te sei città Chiamate le palle E chiamate le palle E chiamate te E le lettere le hai pure strappate Comunque è tutto collegato con Ambrex Con il video quello là che aveva fatto lui Tipo della lettera che mi aveva mandato Pure secondo me Come diceva lui Sbattata un attimo Non era... Non era come se... Non è tutto come sembra, ma... E poi lo vedi Poi tipo auguri Che ha fatto gli auguri pure a lui Vabbè, vado a ripieno un attimo la lettera Al secchio Eccola nostra, regà Ma in realtà Era tipo in realtà vi voglio bene Una roba del genere Ma in realtà vi voglio bene Mi sto solo divertendo Divertendo un po' E ricordate non è... Tutto Non tutti Ah, ma non tutti Ah, ma non tutti Quelli che sono stati nominati Sono realmente coinvolti Tipo Piesa, auguri in... E... Di ritardo Collegato ad Ambrex potrebbe essere... Non è tutto come sembra, ma... In realtà vi voglio bene Eh... Ci vuole bene Ma che cazzo dire? Questo sta fuori dai cazzo Non lo so Ci vuole bene, la pazza Sempre peggio comunque Ma non è che in realtà si ti dice Che ti vuole bene Quello che ha nominato E non c'entra niente con tutto ciò Come dice Sei te No Sono stati nominati Tutti quelli che... Che è? Allora, Andréx ne c'entra Per forza Sergio pure Che altro è stato? È Ace o noi Ace potrebbe... Se si riferisce a Ace Buon appetito E nell'altro Che ragazza Grazie Grazie Si Grazie.